Abbiamo un momento adesso in collegamento appunto il Vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera. Voi, Movimento 5 Stelle, direi che questa è una norma che sostanzialmente ha trovato concorde quasi tutto il Parlamento, con l'eccezione del Movimento 5 Stelle, forse di Sella anche. Alla Camera, anche al Senato hanno votato a favore. Il Movimento 5 Stelle? Avete cambiato idea? No, non abbiamo mai cambiato idea. Però avete votato in modo diverso. La nostra idea, voglio specificare che la nostra idea era quella di fare una buona legge che tutelasse i cittadini dai casi di mala giustizia, perché certi episodi, certe tragedie che si sono consumate nelle aule di tribunale non si debbano più ripetere. Il problema è che abbiamo trovato al Senato una prima apertura da parte del PD, e infatti era stata raggiunta una conquista molto importante, cioè quella della responsabilità indiretta, perché all'inizio c'era il rischio che l'imputato, il condannato, potesse fare causa direttamente al giudice, che sarebbe stata proprio un'intimidazione pura, tra l'altro non esistente in tutto il panorama giuridico europeo. Invece si fa allo Stato, si fa al governo. Si fa allo Stato, questo se è così è solo grazie al contributo determinante del Movimento 5 Stelle, che su questo punto ha trovato al Senato un punto d'accordo con il PD. Non c'è mai stato al Senato un testo che prevedeva la responsabilità diretta, era contenuto nella legge comunitaria, non nel testo del Senato. Mi piacerebbe poter concludere il discorso. Semplicemente voglio dire, e non potrò essere smentito sul punto, che alla Camera è arrivato un provvedimento che prevedeva la responsabilità diretta del magistrato e il PD non è riuscito a sostenere la responsabilità indiretta ed è andato sotto. Questo è inconfutabile. Sto dicendo semplicemente che su un punto di buonsenso il PD e il Movimento 5 Stelle avevano trovato un punto d'accordo. Alla Camera la norma doveva essere migliorata. Allora, il punto qual è, dottor Vesta? Noi siamo in un paese in cui si contano un furto ogni due minuti. Siamo in un paese che è in ginocchio per la criminalità organizzata e la corruzione. Cito un dato su tutto, 16 miliardi di euro di investimenti persi negli ultimi sei anni a causa della corruzione, dati della Banca d'Italia. Ora, di fronte a un paese di questo tipo che è primo in Europa per corruzione, noi non possiamo permetterci che un magistrato per tutto il processo viva in una condizione di incertezza perché c'è il rischio altissimo che il condannato possa fare causa al magistrato, seppure attraverso lo Stato, perché ritiene che il magistrato abbia travisato le prove. Ed è questo il punto debole, gravissimo della legge. Cioè quella che si prevede, il semplice travisamento dei fatti e delle prove. Io non conosco in Italia un solo condannato che non pensi che il giudice abbia travisato le prove. E aggiungo un altro fatto, che si continua a dire questo discorso della negligenza inescusabile. Vede la legge sul punto, è molto chiara, voi l'avete mostrato nello schema, il travisamento dei fatti e delle prove non deve essere grave, perché già per legge è considerato colpa grave. Cioè la legge dice, ogni volta che c'è un travisamento, quello è colpa grave. Quindi il riferimento a quella che il ministro Orlando chiama colpa gravissima, non so, sarebbe un istituto nuovo mai conosciuto né ai tempi dell'Alex Aquilia del diritto romano, né col code Napoleon francese, che immagino non disponevano delle menti illuminate che adesso invece sono presenti all'interno della maggioranza. Però dal mio punto di vista bastava fare una cosa semplicissima, che era la proposta del 5 Stelle. Togliere il riferimento al travisamento dei fatti e delle prove, oppure, perché eravamo disponibili in questo a raggiungere un accordo, che venisse inserito che il travisamento deve essere grave, che deve essere manifesto. Potremmo evitare un'esplosione di cause, potremmo evitare il fatto che qualsiasi condannato in Italia si ritenga legittimato a fare causa a un magistrato, perché altrimenti stiamo guardando il mondo al contrario. Noi, perché guardi, poi c'è una questione di priorità. Mi scusi, mi scusi onorevole, lei ha citato anche lei. Finisco davvero, dottor Vespa, mi scusi. È una questione di priorità. Per noi la priorità è il pacchetto anticorruzione, è il reddito di cittadinanza, che invece, dall'altra parte, se l'anticorruzione non si sa di nulla... Questo si chiama, in termini tecnico, benaltrismo. Ogni volta che uno non vuole una cosa, si dice che ci sarebbe ben altro da fare. Il fatto che ci siano le cose che lei ha riconosciuto, la corruzione e tutto il resto, non significa che non si debbano fare anche altre cose. Poi io non entro nel merito, se siano giusti o ingiusti, ma è inutile dire che ci sarebbe ben altro da fare. Perché in questo modo non è che facendo questo facciamo la responsabilità dei magistrati e non perseguiamo più i corrotti. Non mi pare questa la scelta. Sono perfettamente d'accordo. Infatti non facevo un discorso per cui la legge non si doveva fare. Sto dicendo che proprio perché ci sono tante cose da fare, scegliere quale fare per prima mi dà l'idea dell'agenda politica di un governo. E se l'anticorruzione oggi per l'ennesima volta slitta di altre due settimane, io l'idea di quale siano le priorità di questo governo ce l'ho e mi sembra che non siano quelle dell'anticorruzione bensì fare una legge che oggi è intimidatoria nei confronti della magistratura.